da quello che si è sempre detto le squadre vincono i campionati sono quelle che prendono meno gol quindi ovviamente Spalletti in questo ha preparato una squadra che cerca soprattutto di non concedere spazi appunto in difesa e poi lo sa che ha gli uomini per poter eventualmente al settimo minuto di gioco errore difensivo della Lazio, Zieliški dopo sette minuti con una sassata mancina ha portato in vantaggio il Napoli è stata un'azione che, cambio gioco di Mertens sulla fascia destra, il cross a centro Cataldi è andato a chiudere davanti alla propria difesa, il pallone però è rimasto lì un po' a metà strada, sulla ribattuta è arrivato Zieliški che dal limite dell'aria ha freddato Papereina, al primo tiro in porta la Lazio è sotto e il Napoli in vantaggio stiamo rivedendo in questo momento il cambio gioco di Mertens si è venuto a isolare Lusano sulla destra, anzi Di Lorenzo probabilmente Cataldi non bene una mezza specie di controllo ma in realtà il pallone è rimasto lì la chiusura di Acervi, il pallone che è transitato all'esterno nell'aria di rigore, l'ha chiusa benissima con il sinistro Zieliški primo errore della Lazio e il Napoli in vantaggio lo stesso Cataldi avrebbe dovuto essere invece più attenzione a Mertens, stessa in aria Mertens il 2-0 del Napoli, in tre minuti il Napoli l'ha indirizzata la partita c'è stato un fraseggio infinito da parte del Napoli la Lazio sempre fuori tempo nell'aggressione l'azione si è sviluppata sulla sinistra poi il pallone dentro per Mertens che è stato, come spesso è stato con la maglia del Napoli non solo freddo ma anche in bello stile ha messo a sedere un paio di difensori si è trovato uno spazio per colpire con il destro l'ha piazzata alle spalle di Pepe Reina e al decimo minuto 180 secondi dopo il vantaggio di Zielinski Dries Mertens per il 2-0 del Napoli insomma, partenza schiacciante da parte del Napoli piccola piccola da parte della Lazio qua malissimo a Cerbi mamma mia che gol che ha fatto Mertens un gol stupendo di Dries Mertens praticamente ad incrociare con il pallone che arrivava da destra lui senza stopparla ad incrociare con l'interno del piede destro ha dipinto una traiettoria che si è spinta nell'incrocio opposto quello di destra di Pepe Reina una traiettoria incredibile disegnata da Dries Mertens che fa doppietta 3-0 del Napoli appena la Lazio ha provato a rialzare la testa il Napoli l'ha chiusa praticamente dopo un terzo di gara stavo vedendo prima di questa esecuzione stupenda di Mertens continuo a vedere la difesa assolutamente passiva piatta che difende nella propria area di rigore Consali che le poche volte che stava inquadrato gli chiedeva di stare alti di tenerli lontani di aggredire in modo anche da recuperare il pallone il prima possibile ripartire tutti insieme per andare a far male invece la difesa proprio come se fosse un retaggio di pensiero quando loro vanno in manovra e fanno circolare il pallone si abbassa si abbassa si abbassa sino a concedere loro ogni tipo di soluzione che può essere l'imbucata la rifinitura questa magia di Mertens che poi onestamente va tolto il cappello perché è una magia incredibile però troppa libertà di pensare la giocata per chi rifinisce e per eseguire per chi va a rete 4-0 arrivato il quarto gol del Napoli con un tiro dalla distanza incredibile di Fabian Ruiz di Fabian Ruiz all'ottantacinquesimo minuto con la Lazio che stava lì magari speranzosa che il Napoli potesse continuare all'infinito questo giropalla questa melina solo per far passare il tempo e gestire le forze però poi è chiaro che questo tipo di approccio porta anche ad avere una suggestione una voglia di provarci di legittimare l'ha fatto Fabian Ruiz dalla distanza gran sinistro stupendo che si è inseccato la destra di Pepe e Reina oggi veramente uno spaventapasse di Reina un po' come tutta la Lazio tanto è finita l'agonia arrivato in questo momento il triplice fischio del direttore di Gara Orsato la Lazio stava per compiere l'impresa chiudere il secondo tempo senza subire golle neanche quello è andato a buon fine è arrivato il gran sinistro di Fabian Ruiz che segue la doppietta di Dries Mertens al gol di apertura gara di Piotr Zielinski 4 a 0 a Napoli insomma negli ultimi due Napoli-Lazio nove golli incassati va bene è andato un po' meglio con Inzaghi lo scorso anno 5 a 2 è andato un po' meglio è andato un po' meglio